La compena di quello che sentivo in giro, io sentivo in giro, è che ovunque si sente in Italia, in desideria, è quello che abbiamo visto effettivamente, cioè uno dei locali che porta la musica a dipendenza, la musica di un certo tipo, la gente che da sempre inventa le mode e le porta al di fuori di quello che sono le discoteche, cioè quindi questa sera c'è il successo... Grazie a tutti! 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 ! ! ! Grazie a tutti! Grazie a tutti! !